La grandezza del professor Sabatini sta nella generosità con cui ha saputo trasmettere il suo sapere alle nuove generazioni. Così le parole del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi hanno accolto l'arrivo di Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca e grande intellettuale e linguista tra i più eminenti del Novecento italiano. Il professor Sabatini oggi riceve la cittadinanza onoraria dal comune dell'Aquila, una città a cui lei è profondamente legato. Che valore ha questa giornata per lei? È un grande valore emotivo e culturale, profondo. Come dirò, ringraziando per questo gesto l'amministrazione comunale e tutti i cittadini, sono legato da molto tempo, sia per studi, sia per frequentazioni, sia per rapporti con tanti amici. I legami sono antichi anche della mia famiglia perché mio padre ha studiato al liceo dell'Aquila alla fine dell'Ottocento e è stato lui il primo a farmi di questa città un quadro straordinario. Poi mi sono occupato di altre vicende recenti, dopo il terremoto, per la perdonanza e il riconoscimento unesco della perdonanza, gli studi sull'Appennino, insomma è una città che mi coinvolge profondamente e ora ancora più. A Sabatini è stata conferita la cittadinanza onoraria della città dell'Aquila per la vicinanza al capoluogo di regione anche nel periodo post-sisma. È stata una scelta, secondo me, felicissima. Felicissima perché la città, vedo entusiasmo per questa cittadinanza onoraria, anche perché il professor Sabatini non solo è di un paesino qua vicino al nostro, e quindi diciamo che è il nostro conterraneo, ma è una persona che veramente lo merita. È una delle tante persone che ci ha aiutato durante il terremoto. E quando mi sono insiedato come presidente del Consiglio, una delle prerogative che avevo era quella di ringraziare tutti quanti quelli che ci hanno aiutato durante il terremoto. E il nostro professor Francesco Sabatini è stato una di quelle. È stato capace di attrarre durante il terremoto l'attenzione di tutte e media sulla nostra città. E questo è stato un grandissimo merito. Quindi da lì che lui ha la nostra cittadinanza onoraria. Oggi è soltanto una proforma, è soltanto una consegna di un attestato, ma lui la cittadinanza onoraria è in quei momenti lì che l'ha ricevuta, che gli cittadini dell'Aquila gliel'hanno riconosciuta.